Primo incontro tra la stampa e i nuovi arrivati, tra le fila del Cosenza Calcio, l'attaccante Chinellato e il centrocampista ganese Asante. Hanno risposto alle domande dei giornalisti raccontando le prime impressioni, al loro arrivo e rivalcrati, i primi approcci con compagni di squadra, tecnico e tifosi. Già domenica ho visto comunque c'è una grande tifoseria, i tifosi mi hanno fatto una bellissima impressione. Poi ero già stato qui con il Sorrento all'inizio del campionato e avevo capito subito che questa è una grande piazza e sono veramente contento di essere qua. Come ti stai trovando in questa fase iniziale con il mister Cappellacci? Il mister è veramente bravo, lo dice la classifica, ma anche ogni allenamento ci motiva alla grande. Da questa settimana che sono qua ho capito perché comunque siamo primi e sicuramente vogliamo continuare così. Per Asante è arrivato anche l'esordio, 80 minuti in campo sin dal fischio d'inizio, la sua prima volta con la maglia in rosso-blu e dopo tanto tempo la performance da titolare. No, ora sto meglio perché anche come ho detto prima, un po' non gioco, 90 minuti, quindi era un po' faticamento, però ora piano piano sta prendendo. E invece come ti trovi con mister Cappellacci, questo primo approccio? No, con mister mi trovo bene, anche simpatico, ogni tanto scherzo a spogliatore, faccio, per fare gruppo.